Allora, noi parleremo, racconterò la mia esperienza sul G20, io sono il capo della delegazione del Women 20, quindi racconterò a che punto sono arrivate le politiche di genere e che cosa è stato ripreso nella Leader Declaration. Quindi parleremo, da quello che ho capito, a un contesto molto maschile di emancipazione femminile, cercando di raccontare a che punto siamo e soprattutto come possiamo migliorare. Sicuramente farà bene a tutti avere molte più donne nel campo lavorativo, abbiamo una serie di ricerche che raccontano i benefici di questo. Uno dei paesi migliori dove si potrebbe andare a vivere è la Finlandia, la Finlandia non esiste nemmeno il problema delle pari opportunità, perché c'è uguale possibilità sia per gli uomini che per le donne, noi puntiamo a questo, quando ci arriveremo, questo non sono in grado di dirglielo, però io sono una persona positiva, quindi diciamo che tra qualche annetto forse sì, ne potremo riparlare.